Seconda conferenza nazionale sul lavoro alla città della scienza, nella capitale del sud, Napoli. Di mettere al centro dell'agenda della politica il lavoro, il lavoro di chi ce l'ha e lo sente vacillare, il lavoro di chi non ce l'ha perché l'ha perso, il lavoro di tanti giovani, in particolare di tanti giovani donne nel mezzogiorno che non riescono a trovare lavoro. Poi proponiamo in questa fase di allentare la morsa dell'austerità autodistruttiva. Dobbiamo essere chiari e dire la verità. Con l'attuale obiettivo di finanza pubblica sciagulatamente assunto dal governo Berlusconi, la crescita non è possibile. Una lunga giornata in cui il PD si apre al confronto con le parti sociali. C'è una profonda sintonia, poi evidentemente anche le forze economiche e sociali comprendono i vincoli in cui si muove un paese come l'Italia in questa fase. Mi pare che condividano la priorità, lo sviluppo per il lavoro. Sindacati preoccupati da dati allarmanti sulla nuova ondata di Cassa Integrazione, una riforma del lavoro ancora ferma e poi la questione sodati irrisolta. Abbiamo una proposta di legge che può andare in quella direzione. Ho sentito parole finalmente consapevoli anche da parte del governo. Ho visto che la ministra Fornero sta dicendo chiamiamoli persone in via di salvaguardia. Un passo avanti, diciamo, linguistico e concettuale. Noi chiediamo che a queste norme nel mercato del lavoro venga affiancato immediatamente un ulteriore passo di soluzione per la questione degli esodati. Il PD a Napoli dimostra di essere davvero il partito del lavoro.